E' arrabbiato Giuseppe Sciascia di Veneria Reale, ha scoperto che la finestra della cantina di casa sua è stata murata e l'ha scoperto casualmente per i danni che la condensa gli ha causato, interferendo anche con la corrente elettrica. Io adesso abito presso mia zia qui da 5 mesi, vado in cantina per mettere delle cose personali, mi accorgo due mesi fa quando è cominciato a piovere quel periodo forte che c'era acqua a tutt'andare, cercavo di capire cos'era, vado per aprire la finestra e mi accorgo che la finestra era murata, di conseguenza chiedo a mia zia come mai, mia zia non ne sapeva niente, mi diceva solo che dall'altra parte c'è una tettoia dove ci sono le gattare, praticamente mi accorgo che hanno messo una tavella. A questo punto vado al comune per dirgli come mai hanno fatto questo, nessuno addirittura sapeva dirmi di chi era quella proprietà, andando dai vigili, i vigili mi dicono di andare al catastro, il catastro mi manda all'ufficio tecnico, cioè siamo andati avanti da qua, dal 3 luglio fino adesso. Poi alla fine mi sento dire ancora io, quando poi vado dal geometro, gli dico geometra, lì c'è una bocca di lupo, è stata chiusa il geometro, non sapeva dirmi che cosa era una bocca di lupo. Quello che più mi ha fatto arrabbiare è che poi dopo due mesi di andare avanti e indietro, compreso mia zia che ha 70 e 8 anni, che era stanca di andare avanti e indietro, ho detto a questo punto vado io, dopo aver mandato anche mia moglie. Vado io e mi sento arrabbiato, perché comunque ero veramente arrabbiato su questa cosa, le dico che la cosa è pericolosa, perché la condensa dell'acqua con i fili della corrente è sui tubi dell'acqua dove mi porta l'acqua in casa, di conseguenza si prendeva la corrente anche al rubinetto dove io bevo in casa, perché faceva corrente sui tubi di acciaio. Io ho dovuto staccare tutta la corrente sotto e fare partire l'altro filo che ti ho fatto vedere. Da quanti anni questa filenza è murata? Io me ne sono accorto cinque mesi fa, ci siamo accorti cinque mesi fa, perché la condensa è uscita di colpo tra adesso, dopo che ho fatto fare il bianco, ci siamo accorti che è scoppiato tutto il bianco, dopo che io l'ho staccato alla finestra di legno, perché dopo me ne sono accorto che era murata, di questo non lo so dire quanto è murata. Senza mai comunque venirvi a... No, io non me ne sono accorto, me ne sono accorto adesso che ho tolto la finestra di legno all'interno, mi sono accorto che era murata e che non passava luce, di che mi sono chiesto come mai, vado in comune e loro non sapevano darmi spiegazioni. Allora io ho chiesto semplicemente di poterla riaprire, visto che la proprietà qua è nostra, non è del comune. Di là, poi io devo avere un metro di accesso della casa, che è grave che per avere la chiave di là non me l'hanno data, continuo a avere i danni, continuo a stare con l'acqua chiusa perché non posso aprire l'acqua, perché dal rubinetto mi viene la corrente. Quindi dal comune nessuna risposta? No, poi io ieri vado in comune, dopo tutto questo qua vado a dirgli quanto tempo ci va ancora, mi dicono che devo fare una prassi di seguire una scia. Mi dico, ma veramente mi state prendendo per il culo qua o cosa altro? Sì, poi mi dicono che c'era l'assessore, mi chiami l'assessore che parlo con l'assessore? Volevo soltanto che l'assessore mi desse un attimo di attenzione, io poi capisco che magari non avevo la possibilità, cioè che ci andava il permesso per parlare con l'assessore, tutto quello che vuoi. Posso anche dargli ragione su questo, però visto che vedi un cittadino incazzato, perché è un incazzato veramente, due mesi che andiamo avanti in tre persone, poteva benissimo staccare un attimo e dire, guardi, me lo spieghi a me, vengo a vedere io, ho quello che vuole, a mandare un tecnico, invece no, si mette a ridere, no, questa cosa no, non mi ha dato proprio fastidio. Io ero già alterato di mio e gli ho detto che comunque io gli avrei rinunciato tutte, ma gli ho anche detto che gli avrei rotto la testa se succedeva qualcosa a mia figlia. Lui mi ha risposto che io e mia figlia in cantina non dovevo mandarla, ma ha senso questo? Un assessore. Che cosa chiedete voi adesso? Io chiedo semplicemente che mi venga riaperta la mia finestra, cioè sono loro che mi hanno chiuso la finestra, non sono stato a iamburare la mia finestra di casa mia. Però perché questa finestra è stata amurata e non c'è stata amurata? Ma questo non lo so, questo bisogna chiedere a chi è responsabile della tettoglia lì dietro, perché lì dietro c'è un danno, ci sono danni, non so, ci sono dei gatti, ci sono mondizia, c'è il mondo lì dentro. E non è neanche igienico questo, perché io ho le finestre lì sotto, ma quello che è più grave è quello che mi sta creando a me di qua. Poi tutto il resto di là non mi interessa, cioè a me interessa che mi rimettono a posto la mia finestra e che mi rimettono a posto tutti i danni che mi stanno creando qua sotto. E non che mi devono dire che devono seguire una scia, quale scia devo seguire? La casa qua del 1868 che c'è. Di conseguenza sono loro che sono entrati in casa mia, non sono io entrati, come se io vado in comune e muro tutte le finestre, o gli muro le finestre all'assessore e poi gli dico segua la scia lei. Cioè questo mi sembra una cosa assurdissima, ma la cosa di più è la provocazione da parte di un assessore, che invece che venire incontro, visto che vedi una persona agitata, nervosa, mi ride in faccia. È normale che una persona perde le staffe. Ma poi gli ho quello che gli volevo dire io, se succede qualcosa a mia figlia con chi me la devo prendere? Mi sento rispondere e non mandi sua figlia in cantina. Cioè io devo andare in cantina, punto questo. Io chiedo solo di avere la mia finestra, punto e basta. Questo è questo.